buongiorno ragazzi bentornati sto mangiando una liquirizzina quindi sbiascico ammetti caso di accendere la mentella come è stato ieri siamo lasciati purtroppo devo dire purtroppo perché c'è la soddisfazione nel vedere questa questa vittoria in arrivo con le truppe qui sotto che venivano massacrate e oggi riprenderemo esattamente dove abbiamo lasciato non li ho mai fatti in questo gioco non so perché continui a romper mille palle giusto io dovevo partire l'offensiva a nord guardate il generale globe come cazzo si chiama full rabbia per tutto il fronte ottomano sta crollando e anche qui in franza c'è qualcosa che non va adesso c'è l'odore di cambiamento anche qui qui in grecia resistiamo come dei cani arrapati operazione cane arrapato questa è comunque una vittoria finita lì ecco vediamo ok abbiamo anche a quanto pare siamo arrivati di là li abbiamo armati ma è successo qualcosa la guida dell'altra parte del bordo che aspettava aspettato in vano i nostri che arrivassero fino a quando hanno abbandonato il posto a enemy patrols questo cosa vuol dire in soldoni perché comunque loro sono tornati forse siamo tornati in un'altra maniera 28 spero si alzi in questi giorni vabbè vedrò anche l'altra cosa ha fatto diciamo che abbiamo sfondato un pochino qui e ci stiamo io quasi così farei anche così ragazzi c'è proprio senza arte ne parte anzi voglio fare con i loro tempi va bene non voglio non voglio rovinare l'assalto non lo so le spie non sono andate proprio esattamente come volevo io ma c'è c'è capo smite di miglioramento qui c'è andata la situazione da Persia che ha fin a meno che freghi più di tanto probabilmente rispetterò la neutralità dell'Iran Persia Irano ormai però posso chiederti comunque l'accesso dal loro territorio però non ho truppe adesso da schierare qua quindi inutile che mi spingo in quel punto lì purtroppo ecco questa non me l'aspettavo per niente la Spanish Flu abbiamo il Covid qui da noi e c'è il Covid anche qui nella prima guerra spreading like white fire con 500 million people across the world including Pacific Island ovunque si è un disastro un disastro cos'è che fa questo disastro non lo so magari solo un evento così non fa niente poi alla fin fine che cazzo succede ancora riparata cominciata gli serve per forza il terzo operatore non posso andare senza vai tu iniziate ho mandato altra gente visto che sono forzato al coso ci infiltriamo nell'esercito ottomano e iniziamo a spaccargli giù le fabbriche industrie qua in Polonia ai tedeschi direi che qui è Mesopotamia ormai non è più Mesopotamia qua stiamo sfondando qui proprio si va guardate i nostri pam 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 li li stanno ribaltando su come se fossero dei coglionazzi alle prime armi vediamo vediamo che aria riescono quasi così gli do una botta anche qui full qua non ci credo che attaccando vinciamo vinciamo ovunque vinciamo ormai è finita è spezzato il morale su quel fronte qua e sapete cosa faccio appena arrivo a 100 cioè adesso non posso comunque farlo perché quanto gliene servirebbe 116 di command power e ci sono troppe divisioni che dovrebbe risupplyare gli sparavo un bellissimo coso peccato però in verità non è che gli serva loro qua gli serve solo di vincere ci arrivano notizie ragazzi che il messico ha capitolato io non credo di sapere in che cazzo di guerra fosse forse quello ancora all'inizio del gioco ha vinto quello col portrait random bene per il messico in certain times ha fatto una guerra lunghissima più lunga per ora più lunga della prima guerra mondiale vediamo se riusciamo a farlo durare qualche anno ancora questo e recuperiamo altra notizia riguarda la spagna anche Porfirio Diaz non è più il presidente scusate il presidente del messico è scappato in spagna è succeduto addios amico perché colpo militare in messico addios el apostol della revolución ma cosa c'è nel messico che problemi hanno che devono continuare a fare casino adesso c'è un portrait non random il grande Victoriano Huerta faranno qualche altra rivoluzione magari o qua ragazzi full force ne è veramente sfondiamo ovunque OP al momento ci stiamo espandendo come vedete per bene qua gli alleati stanno facendo un'azione d'attacco inutilissima cioè del cazzo dove non vinceranno ma è utile perché così noi riusciamo a riattaccarci qui sotto il fronte e dopo possiamo darci una mano bene qui sopra tutto abbastanza bene a me qua da veramente sulle palle che non si riesca ad attaccare e tra l'altro ha riequipaggiato gran parte delle truppe quindi ha un po' una lamerata però non ho le munizioni la roba necessaria per fare un attacco a muzzo ok qui è perfetto così visto adesso ci riorganizziamo anche in questo senso come potete vedere qui facciamo un attacco su tutta scala sia da sotto che da sopra qua si overlappano due diverse due diversi generali fattore suicide pill qui sopra invece dobbiamo pushare stiamo salendo ora contraattacchiamo e secondo me l'impero ottomano è veramente una merda papale papale addirittura a Bruxelles riescono a pushare tra un po' vedremo un breakthrough in Germania là sopra qui sotto l'abbiamo già visto non me ne ero accorto io perché sono disabile ma anzi vediamo ok si probabilmente lo vedremo anche lì sotto non sono messi bene i poteri centrali non sono messi scusate lo sclero non sono messi affatto bene signori magari non ve lo aspettavate non lo so però il Messico ha dichiarato guerra al Messico quindi andiamo a vedere cosa sta succedendo questo Messico è tornato il tizio con il portale random chissà che speriamo che al Messico insomma alla fin fine e niente qui come vedete stiamo espansi stiamo continuando a salire arriveremo a nord e poi scaleremo qua di fianco a un certo punto vediamo qua non sta andando benissimo perché qua è concentrata come la parte lo zoccolo duro avevano messo lì i cruchi ma piano piano arriviamo dove dobbiamo arrivare qua sono i francesi che attaccano non noi attenzione puntatone sul Messico oggi il Messico ha capitolato io sto facendo i cazzi miei ma andiamo a vedere il Messico è tornato di nuovo tutto sotto le mani del nostro grandissimo vittoriano bravissimi è una sorpresa ogni volta bellissimo eh sì sto preparando una nuova offensiva verso il centro dell'impero qua a nord tutto procede a secondi piani insomma anche qui abbiamo girato le sorti stiamo vincendo adesso qua non so perché se mi dissero uno dei porti gli costruirei i porti ma non collaborano sembra davvero che ci sarà un breakthrough qua a nord guardate guardate che roba stanno probabilmente spaccando su tutto qui letto volberg che combatte qui e non in africa però vabbè in africa gli ho tolto tutto quindi ovviamente a qualche parte lo metteranno la situazione è bellina guardate qui anche la nostra offensiva al fianco degli ottomani guarda che bello avanziamo steady as we go qua sotto sempre abbiamo i soliti problemi logistici tecnici che non attaccano tutti ad unisono come dovrebbero fare ma abbiamo giusto fuori un bordale di divisioni qui e qui c'è la nuova cosa un rotturo di palle secret police local police mettiamo local police secret lo vi devo dire accettiamo i mosin nagat sparano un colpo ogni due mesi ma va bene così non so se ci saranno carri armati sì ma penso di sì penso sto producendo siamo arrivati ad averne 117 segnano un po' di più sicuramente per un coso però come vedete abbiamo un po' di problema con i fucilini a forza di attaccare allora la situazione è questa c'è un piccolo stallo qui adesso ma io quasi quasi redifinirei tutto il fronte e ridisegnerei proverei a spingere fino al tagliamento qui in modo da tagliare fuori del tutto questi qua e farla finita con sta storia c'è il rischio che con le poker il poco tutto che ho questo piano non abbia una buona una buona fine anzi forse sarebbe il caso di fermare ma no ci provo provo a sfondare direttamente e vedere come va perché mi sembrava un'occasione troppo buona il generale ci believe tantissimo quindi ci provo dai purtroppo non è andato tutto mettere in pausa ma arriveranno i fucili e riprenderemo l'assalto infatti stanno ce li stanno mandando eravamo a meno 5.000 siamo a meno 3.000 ma ne mancano ancora come potete vedere signori come abbiamo fatto la campola abbiamo circondato 11 12 13 14 15 16 17 16 19 21 21 23 24 36 31 33 45 37 47 40 42 44 divisioni miste Krukot Ungaro Russo Banesi e procediamo con lo schiacciamento totale della loro cazzo di faccia ora perché hanno rotto veramente le palle ma qua a sud è veramente la parte grossa in ogni caso ora cerchiamo di stabilire un contatto fisico con il loro muso tipo così 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 ecco adesso si prenderanno male a un certo punto capiranno di aver più rifornimenti inizieranno a panicare duro tipo qua e noi siamo però entrando qui e qui e loro eh no ma noi vorremmo scappare in quella direzione e noi eh purtroppo no non c'è modo di scappare in quella direzione c'è un modo di morire in quella direzione come potete vedere noi non abbiamo benzina voi non avete benzina ma noi non siamo circondati eccoci qui fatta la gabola fatto tutto eh qua è un po' un casino ma vedete che appena si liberano queste divisioni qui del grande coso qua del grande steward eccoci qua siamo entrati prima noi purtroppo da qua non si esce e già che ci siamo invece di camminare attacca direttamente di qua ed eccoci qui e queste qui ce le siamo poppate ora ci poppiamo tutte quelle ed è fatta abbiamo anche notizie dalle nostre spie vediamo completata successo successo abbiamo piantato abbiamo fatto esplodere le local factories là la sopra perfect abbiamo ancora abbastanza intelligence qui sopra per fare qualcosa di intelligence bella la nostra tizia che sono tutti qua e non stanno tu tu qua ma l'altra ah non c'è un'altra vabbè attenzione noi non ce li abbiamo ma gli italiani schierano il primo caramato della guerra mi sono appena accorto che siamo andati 26 minuti cristo deve essermi perso in qualche punto allora niente fermo a tutto recap velocissimo direi ultimo degno di nota qui sopra qui centrale c'è uno stallo ancora non si riesce a fare a parte gli italiani con il carro armato ma direi che abbiamo sfondato in Mesopotamia abbiamo sfondato in Palestina stiamo salendo impero ottomano ai giorni contati non è che c'è tanto da stare lì a discutere qua vediamo nella prossima puntata cosa riusciamo a combinare ma io direi che il fronte di guerra si ridurrà drasticamente a solo la parte centrale d'Europa una volta che arriviamo a Costantinopoli ci sentiamo per la prossima puntata la prossima puntata a la prossima puntata a la prossima puntata Grazie a tutti.